Siamo qua con il bomber Baccherotti, stasera otto una tripletta Grande partita, come l'hai vista stasera? Oggi una grande vittoria contro una bella squadra che ci ha messo in difficoltà ma siamo stati bravi, una delle migliori partite della stagione e ora proviamo a vincere la Coppa Adesso siamo in semifinale, andate e ritorno, andremo a giocarcela Sì, ora andiamo a giocarcela e ti ripeto, proveremo a vincerla e andremo avanti in campionato ogni partita Va bene, grazie e buon festeggiamento Ciao a tutti, buona serata ragazzi